Lescovic è un giocatore del Pescara, la società adriatica e quella croata del Rieca hanno infatti chiuso l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo del 25enne difensore in rival adriatico. Il Pescara sborserà 2 milioni di euro più bonus per il talentuoso atleta che si lega al Delfino per 5 anni. Salta almeno per il momento invece la cessione di Dario Zuparic al Frosinone anche perché il tecnico Massimodo avrebbe dato parere negativo. In Ciociaria andrà invece entro la settimana l'attaccante Andrea Cocco che ritroverà in terra laziale il suo ex tecnico di Vicenza Pasquale Marino. Sulle fronte cessioni la Sampdoria pensa sempre a Verre ma i 6 milioni di euro richiesti dalla società bianca azzurra tengono i blucerchiati a distanza. Il sindaco Marco Sanzovini è pronto a dire sì al Teramo, l'attaccante 36enne allungherà il contratto con il Pescara e poi una volta terminata la carriera entrerà nei ranghi della società adriatica. In Biancorosso andrà in prestito fino al prossimo 30 giugno. Come anticipato ieri il giovane difensore classe 97 Milillo va a Teramo, Masponda, San Nicolò. E questo pomeriggio alle 17 a Palena prima uscita ufficiale per i bianca azzurri che affronteranno la formazione dilettantistica locale. Infine sul fronte abbonamenti si viaggia spediti verso le 4000 tessere.